sono messi signori io tu tu puoi pulire i video tu puoi pulire i video youtube ahahahahahah adverte vai come è? si dice subito che vale? che vuole? ma voglio fare un po' di prosciutto prima un po' di stracchino ma come ho mangiato voi? che cosa vuole? hai visto bravo? che vuole? ma voglio fare un po' di prosciutto per stracchino e poco eh, questo lo proprio piace come è che il finale? guarda vai guarda vai e lo probabilmente pari va per come riusci i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.